Allarme bomba questa mattina all'ospedale Garibaldi Vecchio per un pacco ritrovato nei locali dei sistemi informatici. L'area è stata subito messa in sicurezza. La scatola sospetta, pare con un timer puntato alle 6 del mattino, è stata estratta dagli artificieri. Massimo riservo sull'accaduto su cui sta indagando la polizia. Secondo voci di corridoio non confermate potrebbe essersi trattato di una vendetta messa in atto da un ex dipendente.